vita di unione fra Gesù e Maria di padre Stefano Maria Manelli da Maria Santissima nella vita spirituale trattato di spiritualità mariana fra Gesù e Maria si è avuta una vita di unione sia fisica sia spirituale la più completa e sublime che si possa pensare la vita fisica in Gesù e Maria era data dalla comunanza della stessa natura umana fra la madre e il figlio la vita spirituale invece era data dall'unione di pensieri di affetti di sentimenti di impegni lungo l'intero arco della vita lungo l'intero svolgimento della missione salvifica redentrice che entrambi madre e figlio dovevano portare a compimento attraverso la passione morte fisica di Gesù sulla croce e attraverso la compassione morte mistica di Maria ai piedi della croce di Gesù crocefisso sul Calvario. Inoltre è bene ricordare che l'unione della vita fisica fra Gesù e Maria durante i nove mesi della gestazione materna costituisce già da sola un capitolo unico e meraviglioso di genetica naturale e sopranaturale che non ha e non può avere l'eguale nel riscontro alcuno in nessun'altra esperienza di vita di unione con la Madonna e nemmeno in nessun'altra esperienza di vita di unione con la propria mamma da parte di ogni bambino per quel fatto unico della concezione virginale per cui come scrive San Buonaventura da Bagno Regio realmente e radicalmente soltanto per Gesù e di Gesù si può e si deve dire che tota substanzia Cristi fui de madre sua ossia che tutta la sostanza di Cristo fu della madre sua la semprevergine Maria. C'è da riflettere inoltre che durante la gestazione il bimbo di Gesù nel grembo materno di Maria Vergine fa unità con la sua divina mamma per il naturale passaggio del sangue della mamma al bambino e del sangue del bambino alla mamma in una continua trasfusione biofisiologica tenendo presente tuttavia che per il miracolo della concezione virginale tutto il sangue in questo caso unico è soltanto il sangue virginale della mamma che passa al bambino e dal bambino poi torna alla mamma ma il sangue che ritorna alla mamma in parte resta la mamma come sangue divino del bambino ineffabile mistero questo che non può non lasciare stupiti e senza parole per quella che potrebbe essere considerata una vera deificazione biofisiologica della vergine madre. In tal modo secondo gli studi di genetica antropologica si arriva al punto che Maria Vergine diventa fisicamente consanguigna di Dio in maniera tale che il figlio diventerà nel suo seno una ripetizione delle caratteristiche individuali fisionomiche e somatiche di lei. Come ha scritto lo studioso giudica Cordiglia riportando anche un testo molto significativo secondo il quale il Dio creando la vergine Christum cogita bat dovendo essere ella medesima in virtù della divina maternità la forma dell'umanità del verbo e la modellò su questo divino esemplare. Un altro studioso il professor Nicola Pende scienziato endocrinologo nella progettazione biologica unitaria di Maria Gesù ossia tra vita della madre e vita del figlio tra biologia e psicologia della madre e biologia e psicologia del figlio tra missione redentrice del figlio e missione corredentrice della madre attraverso la concezione del verbo incarnato in quanto concezione verginale arriva a cogliere l'unità della persona e della missione del figlio divino con la persona e la missione della sua vergine madre quale immacolata concezione quale madre corredentrice e anche quale assunta in cielo. Il dogma dell'assunzione di Maria scrive infatti il pende viene anch'esso logicamente fondato sull'unità di natura umana tra il corpo di Gesù e quello della madre oltre che sulla divina missione di questa come corredentrice e sulla concezione immacolata della persona di Maria. Su questo ineffabile mistero è bene conoscere gli studi specializzati di altri studiosi e scienziati. Si vede ad esempio Breitung secondo il quale come argomento allo stesso giudica Cordiglia si può parlare del verbo del padre concepito virginalmente e più che prolungamento continuazione corporea di Maria. Si vedono inoltre i dati degli studi di Monsignor Alessandri, del professor Casa e del dottor Riuscitti. Più importante ancora infine è lo studio con dati molto più recenti di approfondimento nel campo dell'antropologia genetica, dati presentati dal professor Donofrio. Come è stato già rilevato in sintesi dall'insieme dei dati antropologico-genetici quindi risalta già sufficientemente evidente quella che potrebbe forse chiamarsi una fisiologica comunicatio idiomatum tra il figlio e la madre, una sorta di specularità fra Cristo e Maria per cui i loro volti si illuminano e si svelano a vicenda reciprocamente così come si esprimeva bene a livello di conoscenza spirituale il papa Giovanni Paolo II scrivendo nella Redemptoris Mater numero 26 che la chiesa sin dal primo momento guardò Maria attraverso Gesù come guardò Gesù attraverso la madre. vita di unione dopo il parto per nove mesi dunque bisogna dire che la Madonna è stata la fattrice di Cristo chiuso nel tabernacolo del suo grembo vergine con effusioni ininterrotte di amore reciproco che a noi non è dato neppure di poter immaginare per la sublimità di un tale figlio divino e di una tale mamma divina con i loro cuori che battono all'unisono in sincronia costante e perfetta. Dopo la nascita di Gesù poi il rapporto tra lui e la Madonna si sviluppa e si impreziosisce di giorno in giorno stando essi ora face at facem sia quando il bambino succhia il latte virginale al petto della mamma contemplando il dolce volto della sua mamma sia quando inizia a chiamarla mamma guardandola con una infinità di sorrisi che la mamma non può non ricambiare indicibilmente amorosa e felice. Inoltre chi potrà mai descrivere almeno qualcosa di quei trent'anni vissuti insieme da Gesù e da Maria Nazareth vissuti interamente in umiltà e in povertà nel segreto di una intimità tutta divina pregando insieme meditando insieme lavorando insieme mangiando insieme tutto e sempre insieme? Ben ha ragione il padre Roberto Moretti teologo non ha potuto rispondere se non con trepidazione all'interrogativo sulla vita segreta della sacra famiglia nei lunghi anni di Nazareth. Tocco un argomento estremamente delicato scrive il Moretti e mi ci accosto non senza un timore reverenziale e mi sembrano risuonare le parole rivolte da dio a Mosè che si avvicinava a osservare il segreto del roveto che ardeva ma non si consumava non avvicinarti togliti i sandali dai piedi perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa. Sì questa umile casetta è il luogo più santo della terra è la casa della santità qui abita il figlio di dio cioè il santo la santità stessa qui abita la madre di dio la piena di grazia immacolata sin dal primo istante della sua concezione. Che si dissero scrive a sua volta il padre ragazzini in 30 anni di vita intima e nascosta? Un continuo scambio di idee sul padre sulla vita trinitaria e intra trinitaria sui piani di dio sulla redenzione sul mutuo apporto necessario per il ritorno della vita nelle anime sui destini della chiesa evidentemente erano segreti troppo elevati e personali perché fossero comunicati compresi dal resto dell'umanità perciò la mamma come per ben due volte il vangelo annota custodeva tutte queste cose nel segreto del suo cuore meditandole di continuo nel raccoglimento del suo spirito. Se fino a quel momento l'unione fra mamma e figlio era stata prevalentemente fisiologica ora è psicologica, spirituale, morale. Alla fusione del sangue segue ora quella dello spirito con tutte le sue facoltà e potenze. Alla comunanza di natura farà ora eco identità di pensieri, di sentimenti, di volontà, di immollazione. Così tutto, assolutamente tutto diviene comune, diviene uno come il dio è uno secondo quanto dirà il figlio stesso dopo averne dato l'esempio. In particolare a riguardo della missione di corredentrice che fu propria di Maria Santissima anche un altro studioso il dottor Toscano riflette con acume e afferma che Gesù concepito verginalmente fu la copia della madre sua non solo per quanto riguarda la bellezza del corpo ma anche per quanto riguarda i sentimenti e le aspirazioni in tal modo il padre preparava la sua dolcissima figlia ad essere la corredentrice vicino a suo figlio con perfetta identità di amore per gli uomini e di desiderio di salvarli anche a costo delle più atroci sofferenze. Grazie a tutti.